Smart Working nella pubblica amministrazione. A Cassola si è tenuto l'appuntamento conclusivo del progetto che ha coinvolto Mussolente, Romano Dezzellino e Cassola tramite il bando della Regione Veneto per la promozione di questa nuova modalità di lavoro. 50.000 euro per i tre comuni che hanno sviluppato un piano formativo di 160 ore supportando la formazione del personale dipendente e fornendo ulteriori competenze ai partecipanti. Intanto sabato 4 dicembre all'Auditorium Vivaldi si terrà il premio Cassola 2021 con l'assegnazione di 77 borse di studio messe a disposizione dall'amministrazione e dall'Associazione di Promozione Sociale San Giuseppe.